Il vostro è un brano diverso dal solito, ma sicuramente in linea con quanto affermato da Papa Francesco durante il convegno internazionale di musica sacra del 2017. Il Santo Padre ha detto che la parola di Dio deve essere tradotta in armonia che faccia vibrare il cuore dei contemporanei. Sì, oltretutto io aggiungo a questa osservazione che il nostro canto è semplice, è un canto che non ha bisogno di tante voci, come sai siamo cinque elementi, cinque persone, una chitarra e cinque voci. Per cui ecco, oltre ad aderire alle direttive del Santo Padre è anche un canto facilmente memorizzabile, riconoscibile. Si può fare anche in una... questa è una grande chiesa ho visto, però ecco noi siamo abituati in piccoli spazi a cantare, a suonare per l'Assemblea. Che cosa fa dunque il coro itinerante di Corviale? Allora, ti rispondo con il nostro slogan che è va dove ti porta il coro. Praticamente noi veniamo comunque dalla parrocchia di San Paolo della Croce, di Corviale. Per tanti anni abbiamo cantato, suonato lì. Poi abbiamo sentito l'esigenza di portare fuori là dove non c'era un coro. Siamo andati all'ospedale Forlanini, qui a Roma. Siamo andati ad animare matrimoni di amici non solo, insomma. E anche purtroppo funerali, insomma. Quindi anche nella chiesa... Adesso non ricordo il nome della chiesa. Santa Prisca. Santa Prisca è una piccola chiesa dove abbiamo spesso ricordato, in particolare una nostra amica, e diciamo che ci spostiamo e viaggiamo leggeri, con la chitarra e con le voci.